Ali Libraim Cheyan, uno dei nomi assertivi dello schermo, ha iniziato ora ad apparire davanti al pubblico con la serie tv Kirli Sepeti. I fan di Ali Libraim Cheyan, che hanno guardato Kirli Sepeti, hanno chiamato lo sceneggiatore sui social media. Ecco i dettagli. Ha iniziato a incontrare i suoi fan nei panni del personaggio Murà nelle ultime settimane. I fan di Ali Libraim Cheyan, che guardavano Kirli Sepeti, si sono affrettati a chiamare lo sceneggiatore. Ali Libraim Cheyan, che continua ad apparire davanti al pubblico con il cast della serie tv Kirli Sepeti, che ha fatto un rapido ingresso tra i nuovi fenomeni dello schermo, è stato trasferito sugli schermi Fox in questa stagione. I fan di Ali Libraim Cheyan, che ha subito attirato l'attenzione con il suo nuovo personaggio Murà, hanno chiamato lo sceneggiatore prima del nuovo episodio della serie. I fan di Ali Libraim Cheyan, che hanno espresso le loro richieste sui social media, hanno ricordato di aver guardato la serie. Ecco i dettagli. I fan di Ali Libraim Cheyan, che ha interpretato il buon personaggio Murà nella storia della serie Kirli Sepeti appena iniziata, hanno fatto molti commenti esprimendo la loro soddisfazione per il buon carattere del personaggio. Tuttavia, il fatto che Murà sia apparso così poco nella serie non ha soddisfatto i fan di Ali Libraim Cheyan. I fan del famoso attore hanno chiesto allo sceneggiatore di Kirli Sepeti sui social media di aumentare le scene di Ali Libraim Cheyan e hanno chiesto che il personaggio di Murà fosse messo in risalto. I fan di Ali Libraim Cheyan hanno fatto molti commenti affermando di voler continuare a guardare la serie. Grazie a tutti.